Albertina cerca dollari in un modo che non so sono le ore otto e quindici dovrebbe stare a casa già da un po' Albertina cerca strade percorse mai io sto in cucina dietro la tendina perché a vivere so come si fa Albertina cerca limiti raggiunti mai fasi analitiche fasi politiche ed io non le distinguo mai io sto in cucina dietro la tendina perché a vivere so come si fa l'uomo l'uomo la fondola l'uomo 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 Grazie a tutti.